Se visualizzi il messaggio di assenza di segnale satellitare, prima di tutto controlla il meteo nella tua zona. In caso di maltempo potresti avere i problemi di visione. Ti consigliamo di attendere un miglioramento. Nel frattempo puoi comunque utilizzare l'app SkyGo sui tuoi dispositivi mobili. Se il problema dovesse persistere o in caso di assenza di maltempo nella tua area, prova a riavviare il tuo SkyCube. Ora dovresti riuscire a vedere correttamente tutti i canali. Se invece continui ad avere problemi, puoi trovare maggiori informazioni nella sezione Help.